Cominciamo dall'ariete. Eliminati tutti gli ostacoli, procederete con determinazione al conseguimento degli obiettivi che vi siete prefissati. Toro. Il vento astrale vi è favorevole, quindi dovete approfittarne. Niente in questo momento può ostacolarvi davvero, se non una vostra ma improbabile incapacità di approfittare delle circostanze, degli astri favorevoli. Gemelli. Le cose purtroppo non girano sempre come vorreste. Se vi sentite incerti nell'affrontare una questione di natura professionale o finanziaria, fate leva sulla logica e sul buon senso. Cancro. Il cielo oggi è ai vostri piedi. Una configurazione ottimale per invitare amici, approfondire rapporti, andare a caccia di prede amorose se siete single. Leone. Irrequietezza e mancanze di concentrazione vi mandano in tilt. Come al solito riconoscete al volo una situazione vantaggiosa che promette l'auti guadagni, ma stranamente vi manca un po' di coraggio. Vergine. Avrete fortuna in tutto quello che farete oggi. Vi è libera dunque sia un progetto lavorativo importante che ha una storia d'amore che vi intriga sempre di più. Bilancia. Migliora l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. Brillanti e ottimisti affrontate con un sorriso anche le questioni più spinose. Buone probabilità che si presenti l'occasione di firmare un nuovo contratto. Scorpione. Colpi di scena possono verificarsi sul piano professionale come nella vita sentimentale. Farete fatica a seguire tutti gli avvenimenti mantenendo un certo controllo, anche perché le cose potranno cambiare da un momento all'altro. Sagittario. Anche se non dovete abbandonare i vostri momenti di riflessione e di introspezione, avrete parecchio di cui essere soddisfatti. Capricorno. Grazie a un cielo luminosissimo potrete realizzare importanti progetti e veder riconosciuti i meriti personali del vostro impegno. Acquario. Una certa irrequietezza sia mentale che fisica consiglia di concedere qualcosa di più in termini di tempo ai vostri hobby e passatempi. Pesci vi attende a una giornata molto interessante e positiva, in cui riuscirete a far emergere le vostre potenzialità senza troppi sforzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.